Signor Maxim Gennadievich, il numero dei nostri cittadini che trascorrono le vacanze nel nostro paese, in Russia, è in aumento. E aumenta anche il volume dei turisti che vengono nel nostro paese, cioè anche il cosiddetto turismo in camping sta crescendo. È così? Sì, Vladimir Vladimirovich ha ragione. Non solo l'interesse è mantenuto, ma cresce. Nel primo semestre ci sono stati 39 milioni di viaggi in Russia, un aumento del 12% rispetto all'anno scorso. Per la stagione estiva, maggio ha visto un incremento del 5% rispetto a maggio anno scorso e giugno un 12,8% rispetto a giugno scorso. I principali contributi provengono da Mosca e dal territorio di Krasnodar. Tuttavia desidero evidenziare il ripristino del flusso turistico a San Pietroburgo, dove i turisti locali e quelli provenienti dal Medio Oriente e dalla Cina hanno sostituito gli europei, che un tempo erano preponderanti. Questo è cruciale. Inoltre la Crimea ha mantenuto il flusso turistico sui livelli dello scorso anno, nonostante la situazione complessa. Le cifre preliminari sul traffico passeggeri, come menzionato da Roman Vladimirovich, indicano addirittura un incremento. Anche il Dagestan emerge come una destinazione in forte crescita quest'anno, ma anche l'anno scorso ha avuto buoni risultati e ora sta andando altrettanto bene. Vorrei evidenziare Samara e Kabarovsk come leader di quest'anno. Il trasporto è fondamentale, il primo componente essenziale. Vorrei ringraziare gli aviatori per mantenere la capacità di trasporto a livello nazionale, visto che le rotte internazionali sono generalmente più redditizie. Tuttavia abbiamo concordato di non deviare voli internazionali a scapito del mercato interno e i colleghi stanno rispettando questo impegno. E così va avanti. Capisci anche tu che ci sono complicazioni, ma ti chiediamo di mantenere questa priorità per il mercato interno. Per noi è molto importante. Anche nel settore ferroviario i numeri parlano chiaro. Siamo molto grati alle ferrovie dello Stato per l'impegno costante. Anche se il trasporto passeggeri è meno redditizio, riconoscono la responsabilità sociale e danno priorità a questi servizi. Il turismo autumomaputico gioca un ruolo cruciale, dato che il flusso è aumentato del 12%. Aviazione più 3, ferrovie più 8. Il resto è tutto turismo automobilistico. Stiamo lavorando secondo le vostre direttive. A inizio giugno si è tenuta una riunione sui percorsi turistici e automobilistici. Stiamo lavorando e pubblicando. Il flusso cresce nonostante le numerose sfide. Un altro componente importante è l'alloggio in hotel. Attualmente abbiamo più di 900.000 stanze classificate in 23.000 alberghi. Ogni tre anni, ogni albergo deve passare una classificazione e essere inserito in un registro speciale. Senza questo non può operare né ospitare turisti. Tenendo conto di questo, dall'inizio dell'anno sono stati riclassificati 135.000 numeri. Ed è molto importante che di questi 15.000 siano nuovi numeri. Questi sono i nostri programmi che supportano gli hotel modulari e quelli stazionari. Sono stati avviati e danno veramente dei risultati. Attualmente, secondo il nostro programma agevolato, si stanno costruendo quasi 51.000 camere d'albergo. Allo stesso tempo ci avete sostenuto e ci avete dato un limite di 59.000 camere. Avevamo delle richieste, ma non tutte le banche. E, considerando i tassi di interesse e così via, hanno sostenuto l'accordo. Abbiamo un limite e da qui alla fine dell'anno selezioneremo altre stanze, perché continuano ad arrivare nuove richieste. Stiamo supportando la costruzione di glamping e hotel modulari. Quest'anno dovremmo consegnarne 12.000 g di 5.000. Finora ne abbiamo consegnati 1.000. Partiamo dal presupposto che, naturalmente, gli hotel modulari, non richiedendo molta documentazione, vengono solitamente utilizzati subito dagli imprenditori, che poi completano tutta la documentazione finanziaria. Quindi, in realtà, sono di più quelli che operano. Ma chiediamo con insistenza ai governatori di prestare attenzione a questo punto, affinché tutto sia completato correttamente il prima possibile. Perché stiamo predisponendo una nuova selezione per il prossimo triennio su vostro incarico. E, naturalmente, vogliamo assicurarci che tutti gli impegni che abbiamo preso con voi e i governatori con noi siano rispettati da tutti e tutto funzioni in modo efficace. A causa della crescente domanda, i prezzi del piacere nel Paese sono aumentati del 14% rispetto allo scorso anno. Questo è superiore all'inflazione. Comprendiamo questo problema, ci lavoriamo continuamente. Ma per continuare a contenere l'aumento dei prezzi, il fattore chiave è l'offerta di strutture ricettive. E con tassi di interesse elevati, ovviamente, abbiamo bisogno di alcune ulteriori misure di supporto. In sostanza, un volume così grande è stato accettato. Abbiamo chiesto di prorogare l'azzeramento dell'IVA per gli hotel, attualmente valido fino al 2027, fino al 2030. Gli aumenti dei tassi di interesse hanno allungato i tempi di ammortamento. Anche Anton Germanovic comprende la situazione e ha convenuto sulla proroga.